Il senatore Pepe intende intervenire? Sì. Prego. Grazie, scusi. Allora, onorevoli colleghi e onorevole Presidente, anche negli ultimi giorni decine di incendi, di rifiuti e di discarie continuano ad abberenare l'area e la terra di tutta la Campania. Con i loro fumi tossici, cariche di diossine e furani, e dio sassola cos'altro, e che lasceranno sui suoli urbani, agricoli, inquinanti e organici, e veleni che facilmente, già con le prime rogge, avveneranno le falde acquifere. E attraverso la catena alimentare si fisseranno nel sangue di troppi italiani destinati così, come tanti nostri cari, ad ammalarsi di tumore. La situazione è comprovata da molti articoli giornali. Sul mattino del 18 luglio 2015 si leggeva Terra dei fuochi in fiamme, 4 discariche su 5, rivolta del clan contro le bonifiche, un titolo che ben spiega la situazione spaventosa che la Campania affronta in questi giorni. Sul sito della Terra dei fuochi, il 19 luglio, riportava che le autorità competenti dichiaravano che la situazione è sotto controllo. Sotto controllo di chi? Quanti uomini e quali e quante risorse stiamo attualmente impiegando per fonteggiare la crisi campana? Non è da sapere, tuttavia, al momento, rispetto all'emergenza, lo Stato pare latitante nella Terra dei fuochi e ad ogni livello amministrativo e politico. Quali misure siano state predisposte rispetto all'emergenza a rughi tossici e come si intende affrontarla realmente, al di là dei facili proclami? Non è noto, ma di una cosa siamo certi, che il fenomeno sta prendendo un risvolto nazionale, sempre e spesso questo fumo nero denso si vede anche in altre parti d'Italia, quindi si capisce che il problema è molto più ampio. Ma quali misure siano state predisposte rispetto all'emergenza a rughi tossici? Cosa si intende per affrontarla realmente? Al di là dei facili proclami, non è noto, ma di una cosa siamo certi, lo Stato ha il dovere di manifestarsi e togliere il controllo delle situazioni a quelle forze, a quelle persone, a quelle entità che stanno utilizzando questa terribile emergenza per i loro fini. A quelle entità che, al di là dei proclami, sembrano avere per davvero la situazione sotto controllo. La situazione è grave, più grave che mai. L'emergenza c'è ed è un'emergenza ambientale, sanitaria e criminale. Grazie.